Musica Musica Signore e signori benvenuti al Palaborelli di Scauri Tutto pronto per la seconda giornata della Serie B Tra il Basket Scauri e il Bava Opportunity Shop di Pozzoli Mentre lo speaker sta presentando le squadre in campo Io ne approfitto e faccio praticamente la stessa cosa Cominciando dal Basket Scauri Con numero 0 Ciman Numero 5 Ricciotti Numero 7 Policari Numero 8 Atata Numero 9 Gallo Numero 10 Granata 12 Moretti 14 Laguzzi 23 Casoni 32 Milisavievic Numero 35 Longobardi 55 Scampone Gli ordini di mister Enrico Fabri e Vincenzo Ponte Corvo Il vice E quanto riguarda invece la squadra ospite di oggi in Casacca Blu Ci sono con il numero 5 Conforto Col 6 Di Domenico 7 Carichiello 10 Longobardi 12 Di Marco 13 Mangiapia 15 Enrico 16 Bini 20 Memedovic 21 Iaccarino 23 Denadic 35 Tessitore agli ordini di mister Mauro Serpico e del vice Paolo Pepe Gli arbitri di oggi Il primo arbitro è il signor Giacomo Fabri di Cecina Il secondo arbitro invece è Alessio Chiarugi di Pontedera Prima dell'inizio della partita ci sarà e lo diciamo perché ve ne vedete conto guardando questa gara ci sarà un minuto di silenzio in memoria di Gianni Pola Volpe Un personaggio fondamentale non solo per il basket di Scauri ma un po' per tutta la comunità Noi di Telegolfo, Tiziana Palombi alla regia e Guzzardi in cuffia ci associamo al lutto Intanto l'inno italiano lo lasciamo gustare Intanto l'inno italiano lo lasciamo a tutti 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 Il pubblico presentissimo quasi pubblico delle grandi occasioni per questa seconda giornata al Palla Borrelli Lo ricordo ancora Tiziana Palombi alle riprese delle immagini che state vedendo Davide Guzzardi per raccontarvi tutto quello che accadrà questo pomeriggio autunnale Lo basket Scauri si trova primo assieme a un trenino di sette squadre in totale Quindi di altre sei squadre che hanno collezionato i due punti nella prima giornata Boschetti Scauri ha vinto in trasferta 95 a 76 contro la Green Palermo Esordio Casalingo invece con sconfitta per la squadra campana Pozzuoli Tiber Roma 73-79 il punteggio finale per una squadra neopromossa agli spareggi di Cisilver Nella scorsa stagione c'è stato già un precedente tra la squadra di Scauri e quella puteolana Poca settimana nel torneo di San Cennaro disputato al Pala Enrico di Pozzuoli Stiamo parlando dei giorni che andavano dal 17 al 19 di settembre Basket Scauri ha vinto questa partita, l'unico precedente in un torneo che non era campionato Il campionato si gioca oggi e vedremo come si evolverà la gara Chiaramente la squadra di Mister Serpico farà di tutto per uscire vittoriosa Da un campo ostico per qualsiasi squadra orfana della leggenda Ormai 45enne Mario Innocente Organico è comunque stato arricchito con gli arrivi di Mattias Nicolas Di Marco Giocatore che ha già assaggiato la Serie B E Gennaro Tessiture tra gli arrivi più importanti Anche Basket Scauri ha visto rinnovare un po' l'organico Un buon connubio tra i veterani e i nuovi arrivi E lo sentite lo speaker Il ricordo di Gianni Colavolpe che è stato presidente I fiori consegnati da Ricciotti e il tributo di tutto il Palaborrelli Un lungo applauso per la memoria del mai dimenticato e mai dimenticabile Gianni Colavolpe Poi vanno i nostri saluti alla famiglia Ai parenti Tutti quelli che hanno avuto l'opportunità di condividere un pezzo di vita con lui Le squadre stanno entrando in campo Mettiamo anche noi in silenzio con la sirena Mettiamo anche noi in silenzio con la sirena Due quintetti che vanno a disporsi Ecco che comincia il minuto di silenzio Mettiamo anche noi in silenzio con la sirena Fondato con la sirena Mettiamo anche noi in silenzio con la sirena Mettiamo anche noi in silenzio con la sirena Il minuto di silenzio, il minuto di raccoglimento e poi l'applauso che va a sciogliere la tensione nel ricordo di Gianni con la Volpe Saper cominciare la partita tra il basket scauri e il bava shop Pozzuoli Mentre ci ha raggiunto al palazzetto anche il nostro amico e collaboratore Nicola Dell'Anno è venuto a vedere la partita, a portare il figlioletto E' bello che è un dato che vogliamo sottolineare, Palaborelli pieno di bambini piccoli che si avvicinano sempre più a uno sport come il basket Pronti alla palla a due, primo possesso è per Pozzuoli Avanza Di Marco Con il blocco Bini, avanza Di Marco, lo scarico per Enrico E va a segnare i primi due punti per il Pozzuoli, partita che si sblocca Scauri dall'altra parte Palla dentro Riesce a guadagnare il fallo Andrea Longobardi Andrà quindi lunetta per i primi liberi di questa gara Il primo entra E dentro anche il secondo, quindi subito pareggio a quota a due Si rovescia all'altra parte il Pozzuoli Di Marco Portapalla Si fa vedere e riceve Carichiello Lo scambio con Tessitore che va al tiro dalla lunga distanza Primo ferro e poi Bini non riesce a tenere il pallone in campo Ricciotti Il capitano Bene tra l'interno dell'area verniciata Poi manca l'aggancio Laguzzi Bini A sterzata Palla sull'angolo Per il tiro da tre di Enrico Palla che si blocca tra il tabellone e il ferro Ricciotti Che ha ricevuto da Moretti Poi dietro la schiena Senta tipo di liberarsi di Di Marco Longobardi Va al tiro da tre Tabellone Poi il secondo ferro Subito dall'altra parte Il Pozzuoli Il gioco di Di Marco Trova l'imbucata Recupera però palla bene lo scambio Che avanza con Ricciotti Sono in due larghi Ricciotti fa tutto da solo Si perde il pallone per un attimo Alla fine lo deve scaricare fuori La palla che gira Finisce nelle mani di Moretti In sua conclusione però Non ha il risultato sperato Di Marco Il passaggio detto la schiena Per Pini Il pallone finisce fuori L'ultimo a toccare è stato Il numero 16 Blu Cambia di possesso Scauri Palla in mano Ricciotti Ricciotti Una chiamata dell'arbitro C'è il fallo del 35 Ed è già il secondo fallo Per lui Gennaro Tessitore Già due falli In un amen 7'47 Sul cronometro Del primo quarto Due a due Il punteggio Ricciotti che riceve Cerca spazi Fuori per Ciman Che tira dalla lunghissima distanza Per un pelo Non mette un canestro da casa sua Può ripartire il Fossuoli Con Di Marco Che sfida Ricciotti al palleggio Arresto Tiro La palla galleggia sul ferro Poi viene sputata fuori Ricciotti Può gestire il contraattacco Longobardi Baguzzi Ancora Ricciotti Di nuovo Longobardi Sfida Enrico C'è il cambio Il tiro Dalla media distanza Di Longobardi Ancora una volta Il ferro Ancora una volta Di Marco Che si precipita Dall'altra parte Tessitore Tiro poi Di Enrico Capitano Della squadra Campana Primo ferro Ancora Possesso Scauri Non si sblocca Dalla 2 a 2 La partita Pronti via Un canestro E due liberi Poi più nulla Laguzzi Ed eccolo qua Che arriva Guillermo Nicolas Laguzzi 4-2 Carichello Lascia Londra Dell'azione A Tessitore Sfida E batte Laguzzi La penetrazione Tessitore Lo scarico La palla poi Sputata fuori Dalla difesa Dello Scauri E' quello Qui Tiro da 3 Stavolta Entra Sono 3 punti Per Gennaro Tessitore E sorpasso Poscoli Ricciotti Con i cambi In area Ciman La mezza idea Che non diventa in tira Poi va Arrivata La penetrazione Appoggia Il tabellone Due punti Per Mattia Ciman Rimette il naso Avanti Il basket Scauri Di Marco Per Bini Si infila In mezzo a 2 La palla Secondo ferro Arrimbalzo Ci arrivano Quelli di Pozzuoli Arriva poi La stoppata Di Ciman Il pallone Riconquistato In qualche modo Da Pozzuoli Infrazione Di campo E cambio Di possesso E sta E se non Vado Errato La Diciassettesima Mette arriva Il canestro Di Ricciotti La diciassettesima Stagione In serie In 69 anni Di storia Del basket Scauri Arrivato il canestro Interno di Carichiello E siamo 8-7 Con 4-50 Ancora da giocare Sul cronometro Del primo quarto Il contatto Falloso Di Enrico Su Longobardi E' iniziata Evidentemente L'azione Di tiro Del 35 Quando è arrivato Il fallo E quindi Ancora dalla lunetta Longobardi Il momento E' 3 Su 3 E non entra Il secondo libero 3 su 4 Dalla lunetta Per il 35 Siamo 9-7 Un possesso Di vantaggio Per lo Scauri Bella palla Per l'inserimento Del 35 Dall'altra parte Che è tessitore Sono 5 punti Per lui Con questi due Soprattutto punteggio Riportato in parità 9-9 Ricciotti Per Cimanna Ancora Ricciotti Si muove Sull'arco Moretti Preferisce Tornare da Cimanna Il capitano Cimanna Carica da 3 Mattia Cimanna Un possesso Pieno di vantaggio Per la squadra Di casa Tessitore Tessitore Ottimo il gioco Di Enrico E riduce il gap Ricciotti Ne va da solo Alza il pallone Per aria Conquista Un fallo Andrà ancora In lunetta Fallo di Matteo Bini Già Quarto fallo Per la squadra Ospite Per la squadra Di Longobardi Che se ne va da solo E va ad appoggiare In rete Comodo Canesso Di Longobardi Meditato per La palla Rubata Poi va a segno Subito dall'altra parte Carichiello Non vuole perdere Tempo Non vuole perdere Contatto La squadra Ospite Ricciotti La palla Lasciata Lì Per La Guzzi Che non riesce A convertire In due punti Dall'altra parte A Zeppol Per aria Cerca un contatto Che non c'è Alla fine Arriva Fallo Del Quattordici Bianco Primo fallo Di Laguzzi Primo fallo In generale Per la squadra Di casa In lunetta Ci va Con il numero Sette Ernesto Carichiello Da quattro punti Per lui Che diventano Cinque Raggiunto Tessiture Come miglior Marcatore Della sua squadra Raggiunto Anche Longopardi Un unico Arrivato A quattro a cinque Della squadra Scavorese Sbaglia Secondo libero Panza Veloce Longopardi Si butta dentro Alza il pallone Non riesce poi a recuperare Il rimbalzo Tessitore Tessitore Là dentro Ancora Per Carichiello Che si rifà Subito L'errore Altri due punti Per lui Primo a raggiungere Quota sette Meno due Pozzuoli Ricciotti Prova Cimanna Tira da lontanissimo Cimanna Secondo ferro Il rimbalzo conquistato Da Carichiello Dall'altra parte Corre Di Marco Lascia Per Ancora Carichiello Che tira da tre Cade poi a terra Attenzione Perché Potrebbe essersi Fatto male Il numero sette Si è caduto Sul piede Di Cimanna Si sono Contatti Abbastanza Pericolosi Anche Soprattutto Se Involontari Intanto Time out Scauri Sul punteggio Di sedici A quattordici Con due E ventuno Da giocare Nel primo quarto Scorale di casa In vantaggio Di due Lunghezze Vantaggio Che Non è Certamente Rassicurante Che garantisce Comunque Questo Time out A coach Fabri Per Gestire Anche Le energie Mentali Una partita Da vincere Contro una Neopromossa Per una squadra Che ormai È una Veterana Della Categoria Ha cominciato Sicuramente Bene Sul campo Del Green Palermo Ottiene Prestazioni Di Ciman Moretti Longobardi E Ricciotti Tre di questi Quattro Sono in Campo Dall'inizio Ricciotti Ricciotti Lascia andare Lascia andare Il gancio E con Qualche Patema Alla fine La palla Entra Me lo sono Chiamato Moretti Ha segnato 18-14 Dall'altra parte Invece Vola Con la numero 10 Longobardi Senza perdere Tempo 18-16 Guardiamo Chiaramente Di Nicola Longobardi Moretti Per L'altro Longobardi Quello In maglia Bianca Si perde Si ritrova Il pallone In mano Laguzzi Andrea Longobardi Quello Dello Scauri Nicola Longobardi Invece Del Pozzoli Di Marco In possesso Eccolo Longobardi Palla Per Vini Paldone Gioca col ferro Poi esce Longobardi La finta Entra in area E va a segnare Due punti Con il fallo Sono Sono Però Terzo che ha commesso Il fallo Dovrebbe essere stato Bini Infatti si viene segnalato Secondo fallo Per il numero 16 E intanto E intanto Converte Il libero Supplementale Longobardi 8 punti 8 punti per lui Gior Marcatore Fino a questo momento E la gara Bello Bello Due possessi Di distanza Tra le due squadre Scauri In vantaggio Moretti La sua destra Gallo Ben entrato Scarico però E' dentro Pescato benissimo La Guzzi Si vedono E si trovano Bene Gioca Dello Scauri In questo primo quarto Enrico Lascia Longobardi Ne è fischiato Però un fallo Deve essere stato Del numero 12 Bianco Moretti Avevano cambi Per Il Pozzuoli Cambia anche Per lo Scauri E' entrato Il posto Di Ricciotti Granata E' entrato Nemetovic Che prova Subito A segnare Malone però Che viene Rigettato Dal tabellone Avanza Gallo Sfida di Marco 18 Per la squadra Di casa Eccoci di nuovo Al Palaborrelli Sta per iniziare Il secondo Quarto Di Basket Scauri Pozzuoli Primo quarto Che si è concluso 27 A 18 Per la squadra Di casa Con 8 punti Di Longobardi Dall'altra parte 7 Di Carichiello Pozzuoli Che adesso Comincia In possesso Enrico E' ricevuto Da Di Marco Travedere Longobardi Che riceve Davanti a lui Moretti Longobardi Ci pensa Un po' Poi va da Del numero 7 Il punto Carichiello Che va Al tiro Dalla media Distanza Al tiro Difficile Ma messo A segno Gallo Ultimi Pulli Suoi Del primo Quarto Nazioni Insistite In Palleggio Penetrazione E appoggio Palleggio Arresto E tiro Intanto Di Moretti Rimbalzo Catturato Da Ciappa Da Gallo Che però Non riesce a controllare Balla che finisce fuori E rimessa Per la squadra In Maglia Blu Che avanza Con Di Marco Prova Enrico Fa vedere Carichiello E riceve Longobardi Si muovono Tanto I giocatori Del Pozzuoli Per cercare Spazi Sulla linea di fondo C'è il fallo Fischiato Al 23 Esatto Di Cassoni Federico Cassoni Qui rovescia Cauri Con 10 secondi Alla fine Del Scuadone Dei 24 E Tamoretti Lancia il polone Per aria Rimbalzo Catturato Catturato Per un attimo Da Granata E la palla Riconquistata Dalla Pozzuoli Che si riversa Dall'altra parte Con Di Marco Per Enrico Con la penetrazione Ed Enrico Va a sbattere Contro Il numero 10 Granata Che conquista Il fallo Sfondamento Del numero 15 In maglia blu Salvatore Enrico Secondo fallo Per lui A due falli Per posturi Già Enrico Pini E Tessitore Un solo fallo Invece per Modetti Laguzzi E Cassoni In maglia bianca Gallo No si tenterà Ancora La soluzione Personale No Va da Granata Per Longobardi Si gira Molto bene La palla Che sbatte Contro Il tabellone Poi Sono C'è il fallo Due liberi Per lo scauri Fallo Del Viene chiamato Un primo fallo Quindi deve essere Carichiello Ad aver commesso Fallo Infatti è lei che fa Chiedere spiegazioni Fallo del numero 7 Maglia blu Sbaglia però Il primo libero Longobardi Entra il Secondo 28-22 Possessi pieni di vantaggio Per la squadra Di casa Adesso Dozzoli che Muove velocemente Uomini E pallone Viene fischiato Un fallo Al numero Zero E tratta di Mattia Ciman Desce Longobardi Lascia il posto Alla Guzzi Di contatti C'è un fischio Dell'arbitro Fallo Di Antonio Gallo Collezionando falli Un po' rapidamente Lo scauri In questa fase Attenzione a non raggiungere Il bonus Che a inizio quarto Potrebbe essere Veramente una Brutta 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 Notizia Maggiare palla Pozzuoli In cerca di Soluzioni Alla fine Trovato Nell'angolo Ben pescato Anche il numero Dieci Qui Che lancia Una bomba Si tratta Di Nicola Longobardi Tripla Che Scuote Sicuramente Gli animi Della squadra Ospite E ricuce Il punteggio Poi lascia andare Via Una palla Deliziosa Granata Cinque punti Di distanza Tra le due squadre Fallo ancora E saranno due liberi Quello che dovrebbe essere Stato proprio Di Granata Se viene chiamato Lo zero Quindi Ciman Secondo fallo Per lui No Sì Secondo fallo Ho sbagliato Dal tavolo Una volta tanto Non ho sbagliato Lito Non ho sbagliato Loro 30-25 Il Numero 7 Carichiello In Lunetta Baglia il primo Entra il Secondo Corre Palemano Gallo Corre una penetrazione Sfidando tutta la difesa Salta Rimpalzo Laguzzi Ma la prende Il Pozzuoli Prova a metterci una mano Su questo cross Granata Ma Sono due punti Per Carichiello Time out Fabri Deve Riorganizzare Le idee La squadra Di casa Sono arrivati Due punti Sanguinosi In contropiede Per il Per la squadra Di Pozzuoli Da Baba Opportunity Shop Pozzuoli Che ha ricucito Uno strappo Che si era fatto Di due possessi pieni Adesso siamo a soli due punti Di distanza Tra le due squadre Con il Basket Scauri O meglio La Global Service S.P.A. Basket Scauri Che Seppur di poco Ma ha ancora il Naso Avanti In questo Secondo quarto 6.52 Da giocare Squadre che rientrano In campo 3.028 Il punteggio Già Quattro falli Però Per Lo Scauri In questo Secondo quarto Si ceva La squadra Di casa Cerca Arrivare a passare Un po' In mezzo alle gambe L'avversario Granata Non è una buona idea In senso assoluto Visto Considerato che Pozzuoli Si riversa Dall'altra parte Con grande rapidità Riesce a contemplare Il possesso Con Carichiello Che si allontana La zona calda Del campo Sfida Granata In palleggio Avanza il pallone Mette due punti Che sono i due punti Del pareggio Super Carichiello Mentre qui Pozzuoli Recupera Un altro pallone Attenzione Scauri In difficoltà In questo momento Longobardi Si gira Faccia andare Per l'aria Il pallone Sotto alla preghiera Non viene esaudita Scauri Che può andare Dall'altra parte Con Ricciotti Che corre Arriva fino in fondo Ricciotti Dante Due punti Per lui Scauri Che rimette Il naso Avanti Partita che adesso Si è accesa Da un punto di vista Offensivo Attacchi veloci Rapidi Per far correre Il tassametro Sul tabellone Longobardi C'è il contatto Falloso Del 23 Fallo Per Cassoni È il secondo Fallo Per lui Ma soprattutto È il quinto Di squadra Per Lo scauri Che manda Quindi In lunetta Il Pozzuoli 3-2 9-24 2-1 E il tiro Affrettato Di conforto Finisce Oltre il ferro Quando Dario Scauri Il fallo Proprio Di conforto Sul Contropiede La corsa Di Ricciotti Primo fallo Per Nicola Conforto E il terzo Per Pozzuoli Quando mancano 4 minuti 58 secondi Alla fine Del secondo Qualto È un fallo Spendibile Per evitare Un canestro In contropiede Non mandare Comunque In lunetta Scuola di casa Ricciotti Bomba Di Moretti Ferro Arrembazzo Non ci arrivano Mai le bianche La rimessa O meglio Se ci arrivano Toccano male Perché la rimessa Del Pozzuoli Sempre 3-2 3-1 Il punto di giochiamo Uno schema Conforto Il padrone Per Bini Prova a metterci Le mani Longopardi Bini Per Longopardi L'altro Quello del Pozzuoli Carichiello Trova il muro davanti Alla fine Però al rimorchio Arriva Bini Primi due punti E la partita Per lui E primo vantaggio In questo secondo quarto Per Pozzuoli 3-3-3-2 Sorpasso Maglie Blu Ricciotti Per cercare di rimettere Il naso avanti Lascia andare Per aria Il pallone E sono due punti E andrà Il lunetta Per il libero Supplementare Fallo del numero 20 E' il primo Per Fatih Memedovic E' il quarto Di squadra In questo Quarto di gioco Per Pozzuoli Ricciotti va a segno 3-5-3-3 Preso Il più possibile Ricciotti In questa azione Serie di Sbracciate Alla fine Il fallo Viene conquistato Da Bini Il fallo Chiamato Al numero 12 Se non ho visto mai Dove può essere Il fallo Di Moretti Finita la palmetta Va dentro Il primo Parte il secondo Ed entra anche questo Accorcio di distanze Meno uno Con 3-57 Sul cronometro Anzi Parità Acuta 35 Ricciotti Ciman Longobardi La finta Pallone che Vola Longobardi Se lo va a riprendere Palleggio Al resto Tiro difficilissimo Sulla squadra De 24 Sbagliato Pozzuoli dall'altra parte Con Conforto Che corre Fa girare tutti Poi lascia Pini Finta attiva da 3 Prova a entrare Sbraccia Lascia andare perere Il pallone Sbaglia e tiro Palla messa fuori Recuperata però Ancora da Longobardi Conforto Conforto Lascia Carichiello Fa partire Un tiro Completamente Fuori misura Allo squadre Dei 24 C'è il cambio Ancora per Pozzuoli Esce Carichiello Entra Gennaro Tessitore 5 punti Per lui Nel primo quarto Panchina In questo secondo Fino a questo momento Quando mancano 3 minuti E spiccioli Ricciotti Qualità Quota 35 Quando entra 35 in campo 2.35 in campo Tra le altre cose Tessitore da una parte Longobardi Andrea dall'altra Ricciotti La penetrazione La penetrazione Qui Prende Una mazzata Dal numero 20 Non ho visto male Aspettiamo la conferma Dell'arbitro Ce n'ho Chiamato il fallo Al 5 Quindi fallo di Conforto E time out Per coach Mauro Serpico Secondo fallo Per Nicola Conforto E raggiunti 5 falli Per Pozzuoli Qualità Assoluta Quindi anche Per conto Dei falli In questo momento 3 falli In meno Quelli commessi Quelli non Commessi Nel primo quarto Da Scauri In questo momento Sono 3-2-2 Le squadre A quota 5 8 Quindi Per Lo Scauri 10 Per Pozzuoli Statistiche Che lasciano Poi il tempo Che trovano Quando siamo Neanche arrivati A metà Della partita Le squadre Che rientrano In campo 2-47 Da giocare Nel secondo quarto Per chiudere Il primo tempo La prima metà Di questa partita 3-5 3-5 Ciman Moretti Laguzzi Ricciotti E Longobardi Per Lo Scauri Mentre Ricciotti Va in lunetta Conforto Longobardi Bini Tessitore E Memedovic Per Pozzuoli 2-2 Intanto per Ricciotti Della lunetta Conte a rientrare Al posto Di Conforto Il play Di Pozzuoli Mattias Nicolas Di Marco 2-2 Davanti Per Impedirgli Un passaggio Facile Medovic Medovic Ancora per Di Marco Di nuovo Medovic Il blocco Il blocco Il blocco Di Medovic La palla Era per Tessitore La recupera Lo Scauri Moretti Va da Laguzzi Dietro Ricciotti Volete ragionare Scauri Ciman Ancora Ricciotti Per Il tiro Da fuori Di Moretti Ma oggi Quella palla Non vuole Entrare Longobardi Di Marco Fa vedere Bini A portare Il blocco Su Ricciotti Ricevuto Il pallone Medovic Per Tessitore Che ci prova Da tre La palla Che sbatte Contro il ferro Viene sputata fuori Contra attacco Scauri Comandato dal Solito Dante Ricciotti Palleggio Arresto E tiro All'interno Della lunetta Primo ferro E palla recuperata Da Longobardi Tessitore Ancora Longobardi Vini Prova Lo scarico Facile Palla che gira Finisce di nuovo Tra le mani di Longobardi Secondo ferro Palla fuori Applausi Comunque Dalla panchina Di Pozzuoli Per la gestione Di questo possesso Andrea Longobardi Va a prendersi il fallo E i due tiri Dalla lunetta Il fallo del numero 16 E il secondo fallo Per Matteo Vini Quindi Ah no Terzo fallo Dicevo Ancora una volta Non mi sono fidato Di me E avrei fatto bene A farlo Terzo fallo Terzo fallo per Vini Che adesso esce Per lasciare spazio A Salvatore Enrico Capitano Della formazione Puteolana Mentre Il rigore Il palleggio Lo scarico Fuori Per il numero 12 Ma Moretti non riesce Ad andare a segno Ciman Da 3 Mattia Ciman Seconda Tripla Della sua Partita Dall'altra parte Di Marco Palleggio Arresto E tiro Primo ferro Rimbalzo Catturato Dalla numero 14 Laguzzi Finisce Il secondo Quarto Finisce La prima parte Di questa Partita Scauri Che ha subito Un momento Di sbandamento Durante Questo secondo Quarto Ma ora È saltamente Avanti 42 A 37 Noi ci vediamo Tra poco Per la seconda Metà di partita E l'inizio Del terzo Quarto Suona la sirena Che avverte L'inizio Del terzo Quarto La prima Metà Della partita Si è conclusa Per 42 A 37 In favore Del basket Scauri Sulla 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 squadra Di Pozzuoli I Undici Pugli Undici punti Di Ricciotti Di Longobardi Per lo Scauri Contro I Quattordici Di Cadechielo Per il Pozzuoli Sono i migliori Marcatori In questo momento Longobardi Che prova a mettere Il sigilo Sull'inizio Di questo terzo Quarto Siamo al Palaborelli Tiziana Palombi A delle riprese Davide Cussardin Cuffia A raccontarvi La seconda giornata Della serie B Di basket C'è intanto Un fallo Mischiato In favore Della squadra Ospite Può giocare Adesso il tiro Dall'arco Ma ha segno A tripla Del numero 16 Vini E apre così Le danze Pozzuoli Che si porta A un possesso Di distanza 4-2 4-0 La risposta All'altra parte Di Cimane Che sembra Saper segnare Solo così Una bomba Per quarto Più due punti Tanto per gradire Sempre nel Primo 45-40 Rimessi Due possessi Tra le due squadre Anche se non Pieni 5 punti Mattia Cimane Tessitore Per mettere Numero 7 Di Pozzuoli La quota 19 Ricciotti Resiste Scusate Balla per lo scauri In zona D'attacco Scusate Attenzione Da Tresman E' una garanzia 4-9 4-5 Ricciotti Pinesima palla Pinesima recuperata E rimbalzo Perfezionato Da Dante Ricciotti Fa vedere Longobardi Palleggio Arresto Tiro Secondo perro Arrimbalzo Non ci arriva Atata Di Marco Per Enrico Carichiello Di fondo Cerca Un compagno Alla fine Il pallone Che arriva In qualche modo Abbini Che trova Il contatto Di Longobardi Primo pallo Per lui Palla molto bene Fatta girare Da Puzzoli Per armare Carichiello Secondo perro Ci manda Al rimbalzo Ricciotti Gama Allo schema Si muove Longobardi Che riceve In questo momento La Guzzi Di nuovo Per Ricciotti Longobardi Schiato Il fallo In favore Dello Scauri Il fallo Del 35 Ed è terzo fallo Per Gennaro Tessiture Per Gennaro la sforzata di Laguzzi Ramone che poi finisce fuori di ancora per la squadra ospite un arco 8 secondi allo scadere di 24 il testitore finisce giù, non c'è stato contatto con Lodobardi può partire a Dora Moretti davanti a Lodobardi che finita il tiro di fondo c'è il fallo del numero 15 Enrico il fallo anche per Salvatore Enrico il capitano della formazione ospite altre cose fallo grave che vada in letta Longobardi che lascerà il possesso allo scauri va a segno Longobardi e sono due su due trova a mettere la freccia il basket scauri 51-45 due possessi pieni di vantaggio per la squadra di coach Enrico Fabri e del suo vice Vincenzo Pontecorpo Ricciotti segue come un'ombra di Marco Ciman provava a infilarsi in mezzo lascia andare per aria un pallone che non ha né carne né pesce il tabellone lo scuota via Pini da tre primo ferro e rimbalzo corto preso da Longobardi subito nelle mani il pallone di Ricciotti si muove Cimano Ricciotti perde la palla per un attimo va a riprendere prima che esca fuori cerca di sfruttare il blocco dei compagni poi un pallone bellissimo per Laguzzi che non è stato lesto a tirare e allo scadere dei 24 il canestro di Moretti che fa chiamare time out e interrompe il gioco su da 53-45 scuro di tromba anche di Moretti che non aveva segnato nel secondo quarto fermo a due punti dal primo adesso sono quattro in totale sono otto i punti di distanza tra le due squadre tre possessi tra il basket scauri e la Bava Opportunity Shop Pozzuoli con 4.43 da giocare in questo terzo quarto prima che abbia inizio l'ultimo capitolo della seconda giornata che riguarda la formazione scaurese è quella putevolana le squadre rientrano in campo il tre di gara lo ricordiamo quando è passata quindi più di metà della partita quasi tre quarti sono il signor Giacomo Fabri e Alessio Chiarucci primo di Cecina in baguncio di Tattino l'altro di Pontevera il testitore il muove Bini che riceve davanti a Lucia Longobardi da fermo senza ritmo Bini sbaglia Ricciotti va a recuperare il rimbalzo e il pallone vagante per trasformarlo in un'azione offensiva Largo Moretti che riceve da tre tira primo ferro rimbalzo corto scuttato fuori da Laguzzi extra possesso per Scauri dalla messa fuori per Longobardi da tre secondo ferro stavolta il rimbalzo lungo è catturato da Carricchiello che deve suonare la carica ai suoi di Marco armatessitore fuori per Bini questa volta non ci prova da tre c'è Carricchiello dove vicepreso il contatto da Ricciotti poi lascia andare per aria il pallone è un canestro difficilissimo Bini poi protesta volevamo probabilmente un contatto sono arrivati i due punti che non sono niente male vista come si era messa la situazione Ricciotti per Moretti ancora Longobardi nuovo Ricciotti che è finito il passaggio penetrazione lascia andare per a lei l'ob e due punti di una bellezza unica da parte di Dante Ricciotti 5-5 4-7 il punteggio a 3-18 alla fine di questo terzo quarto Di Marco in possesso per Pozzuoli trova la linea di Tessitore palla in mano Tessitore da fermo adesso si muove entra nell'area verniciata lasciando andare per il pallone non trova neanche il ferro ma il tabellone alla fine c'è il fallo di Gallo sul tentativo ancora di Tessitore di ribadire in cesto il tiro secondo fallo per Antonio Gallo l'opportunità dalla lunetta per Tessitore di far correre il punteggio della sua squadra e anche il suo personale ferma i 5 punti del primo quarto il primo libero va a segno a bersaglio anche il secondo Ricciotti tutta la schiena per Laguzzi in qualche modo riesce a trovare un compagno Longobardi Ricciotti ancora Moretti sull'arco entra palla scaricata nell'angolo per Gallo un pallone proibitivo che si perde oltre la linea di demarcazione del campo Pozzoli che ha l'opportunità di accorciare ancora un po' le distanze e riportarsi a due possessi di distanza quello è ma di comunque diminuire da due possessi pieni a due possessi e basta il divario che la separa dallo Scauri tessitore sfida tra il nome di 35 con Longobardi si va da Abiniti o da Trevene toccato sporcato e stoppato praticamente da Laguzzi per personale recupero Ricciotti che adesso avanza ultima azione ottima partita difensiva del numero 14 Maglia Bianca Gallo per Moretti ancora Gallo Longobardi per Ricciotti isolamento Ricciotti lascia andare questo tiro con il destro cortissimo Pozzoli che va subito dall'altra parte con Di Marco sfida Gallo al palleggio poi si ferma trova Bini gli esprisce il pallone il blocco di Bini per liberare Di Marco e per avere spazio in ricezione lasciandare il pallone per aria Di Marco intercettato da Carricchiello ma subito scavi dall'altra parte prende uno sfondamento il numero nove Gallo sorpreso in maniera evidente tessitore Gallo è andato a prendersi questo sfondamento quarto fallo per tessitore e Gallo potrà andare in lunetta l'abitro va a chiarirsi con il numero 35 blu mentre il numero nove bianco attende il pallone dalla lunetta esce tessitore ed entra Bini Gallo entra il primo sono due punti per lui fino a questo momento prima di questo libero mentre entra anche il secondo e fa due su due per il numero nove Antonio Gallo messi a segno nel primo quarto appena entrato praticamente un'azione solitare insistita terminata nel migliore dei modi la cia quota quattro Carichiello gira stimo ferro rimbalzoporto preso da Laguzzi passaggio di Gallo per Moretti Longobardi ancora Gallo con Ricciotti che è uscito si prende lui la responsabilità di gestire l'azione il blocco per liberare al tiro da tre la bomba di Antonio Gallo a volte basta un niente per accendere un giocatore arrivato a questa tripla dopo i due liberi mentre Gallo qui commette fallo su Di Marco che si arrabbia con una azione difensiva comunque di Gallo e poi alla fine si è lasciato ingolosire provo Di Marco vedessi questo contatto terzo fallo anche per Antonio Gallo quarto per lo Scauri quindi al limite del bonus manco fino in fondo il pallone conteso tra Gallo e Enrico alla fine viene fischiato fallo proprio al numero nove che aveva appena fatto il quarto fallo il terzo fallo adesso arriva il quarto e manda in lunetta il numero quindici Enrico che sbaglia il primo libero il secondo invece va a bersaglio esce Gallo con gli applausi del Palaborelli rientra in campo Ricciotti 6-1-4-9 Dario che si è fatto anzi 6-0 4-9 6-0 5-0 è stato un errore abbastanza grossolano la parte del segnapunti 60-50 il punteggio con meno di 30 secondi da giocare per chiudere il terzo quarto sono 10 punti 3 possessi di vantaggio la palla subito in avanti per Cimane che ha rimesso piede in campo con Ricciotti Longobardi Ricciotti proprio per Cimane esplode il Palaborelli per l'ennesima tripla di Mattia Cimane un braccio armato e bollente mentre si chiude il terzo quarto sul punteggio di 63-50 vola il basket scauri rimanete con noi perché tra poco c'è la volata finale ed eccoci qui pronti prontissimi per l'ultimo atto di questa partita basket scauri avanti sul Pozzuoli per 63-50 13 punti che si sono scavati praticamente nel terzo quarto adesso siamo nel quarto l'ultimo Pozzuoli in possesso ai 18 punti di di Cimane da una parte rispondono i 19 di Carriciello dall'altra vedremo come si concluderà questa gara con il basket scauri che sembra essere messo però nelle condizioni migliori per gestire questo finale Longobardi per Carriciello si va da Enrico si va tutta la linea poi va al tiro con questa il fallo per il tocco del numero 32 bianco si tratta di Marco Milisavjevic primo fallo per lui la lunetta però sbaglia Enrico il primo libero impreciso il numero 15 della lunetta già in precedenza entra il secondo ottavo punto per lui in questa partita sono 3 a 51 ora sono 3 possessi pieni di vantaggio anzi sono 4 possessi pieni di vantaggio Moritti il blocco proprio di numero 32 Milisavjevic Longobardi Gini può saltare a voto l'avversario e va a prendersi il pallo sono due tiri liberi il fallo dovrebbe essere stato di Andrea Longobardi se vediamo la chiamata dell'arbitro 35 si Longobardi ed è il il secondo fallo per lui esce Marco Milisavjevic entra con il 14 Ghiiemo Nicolás Lagucci da Valonetta mette il primo libero Bini Ghiiemo a lasciare andare il secondo ferro il rimbalzo catturato da Laguzzi Ricciotti pressing di Marco Ricciotti se ne va da solo manda per il pallone che per un pelo non entra non chiama il fallo secondo reclamato dal numero 5 poi arriva dall'altra parte invece il fallo del numero 0 Ciman e saranno due liberi per Pozzuoli terzo fallo per Ciman e opportunità dalla lunetta di accorciare ancora il risultato andare sotto la doppia cifra di svantaggio affidata a Bini no invece no non c'era il tiro è stato il cavo del pallo prima e l'azione di tiro se no sarebbe stato anche Canesco errore anche questo trossolamo da parte mia però di chi parla autorità comunque di andare sotto la doppia cifra di svantaggio che si concretizza adesso con i due punti di Enrico 6 3 5 4 9 punti 3 possessi pieni da recuperare per Pozzuoli da gestire per Scauri Ciman fallo della numero 10 Nicola Longobardi secondo il mio traquino sarebbe al primo fallo è infatta trovo conferma nella paletta alzata Ricciotti per Longobardi si muove Ciman a liberare spazio per il proprio numero 35 tiro difficilissimo di Longobardi rimbalzo catturato per un attimo da Laguzzi gli strappano via il pallone da mano i giocatori del Pozzuoli Enrico Bini che riceve adesso Colobini con il contrasto di Longobardi va a segno accorcia e distanzia il Pozzuoli Scauri un attimo seduto rischia di subire la rimonta della squadra ospite Ricciotti Cimano Romanda se ne era solo gli ruba il pallone di Marco che va fino in fondo scarico fuori per il numero 16 braccio armantissimo di Bini tripla 6-3-5-8 sono solo due punti 6-3-5-8 ma recupera il Pozzuoli e deve fermare il gioco coach Fabri 8 punti 5 punti ovviamente di distanza erano 13 all'inizio del quarto è rimasta a 63 la squadra di casa 8 punti sono quelli che ha fatto il Pozzuoli in questo quarto un parsare di 8-0 per la squadra ospite Time Out Fabri Scauri che deve riprendersi da questa scossa violenta assestata questo 1-2 violento assestato dalla squadra di coach Serpico ultimo questo controbede con palla persa da Cimano rubata da Di Marco che è entrato fino e sotto il canestro e poi lasciare andare fuori il pallone armando il braccio e la mano caldissima di Bini in questo momento con i 5 punti messi a segno fino ad ora in questo ultimo periodo sale a quota 14 Moretti chiamato fallo numero 12 blu Di Marco primo fallo per lui Ricciotti riceve da Cimano dopo la battuta di questa rimessa palla per Moretti che prova a penetrare nell'area poi ancora Ricciotti per Laguzzi Tiene tanto il pallone Laguzzi un secondo lo scudetto dei 24 primo ferro rimbalzo catturato di Marco subito dall'altra parte per accorciare continuamente il gap tra le due spade postuali subisce il contatto numero 15 Enrico il fallo è di Laguzzi e quinto fallo o quarto fallo adesso vediamo se il fallo di squadra sono quattro e terzo fallo per il numero 14 va a prenderselo il fallo Laguzzi fallo commesso da Ernesto Carricchiello secondo fallo per lui miglior marcatore del miglior realizzatore del Pozzuoli e miglior realizzatore della partita fino a questo momento perché a 18 c'è Cimane ed è fermo a 18 come è ferma tutta la squadra di casa sin dall'inizio di questo ultimo periodo sono quasi quattro minuti che non va a segno lo scauri e qui persa un'altra palla che per fortuna di Laguzzi viene toccata dai giocatori del Pozzuoli che mantiene il possesso con soli otto secondi sul tabellone per chiudere l'azione offensiva 5 4 va al tiro da fuori pesca un jolly incredibile dal mazzo Ciman sono tre punti fondamentali per lui e per la squadra che si sblocca dopo quattro minuti di astinenza 66 58 sbaglia per qui la conclusione Bini dall'altra parte Ricciotti Longobardi porta via un uomo viene servito Cimanna ancora da tre Cimanna secondo per rimbalzo lungo preso da Bini che lascia Di Marco ancora Bini non può andare al tiro perché il passaggio di Di Marco non è stato perfetto porta il blocco per farlo affondare la palla presa da Longobardi che poi subisce il fallo un fallo grave del numero 16 subito da Longobardi quarto fallo per Matteo Bini questo è grave quindi Longobardi andrà in lunetta poi il possesso tornerà allo scauri scatenato il pubblico proprio sotto la nostra postazione sulla destra Longobardi mette a segno il libero dentro anche il secondo ed entra anche il terzo e quindi dal tabellone io scopro che il jolly pescato da Ciman poco fa era da 2 non da 3 perché siamo 68 58 bello per qui l'inserimento la parola di Ricciotti per la Guzzi due punti sul possesso guadagnato per l'antisportivo 70 a 58 prova a recuperare con i tiri da 3 sbaglia però Bini il rimbalzo catturato da Gallo che è rientrato in campo adesso potendo gestito da Ricciotti 70 58 4 possessi pieni di vantaggio per la squadra di casa che adesso può amministrare con 4 35 sul cronometro Gallo Ricciotti Mezzidea che non diventa intera dalla sfida di Marco al palleggio saluta un po' il pallone va a spasso per andare a pedale a un pallone allo scadale di 24 che per un pedo non entra in retina cambi entra Granata lo scauri al posto di Ricciotti Di Marco Longobardi fuori per Pini che finita il tiro ancora Longobardi di pesa forte dello scauri un po' troppo forte arriva il contatto subito da Longobardi che andrà in lunetta il fallo del numero 12 il secondo fallo per Gabriele Moretti primo di Longobardi entra ed entra anche il secondo 2 su 2 per lui Gallo Gallo linea di penetrazione libera se la prende tutta il numero 9 scappa via il basket scauri con 3 50 sul cronometro Vini per non mollare fino all'ultimo Longobardi Gallo sfida Longobardi va a prendersi il fallo secondo fallo per Longobardi Nicola raggiunto il limite il bonus per il basket scauri Gallo dalla lunetta 7 2 6 2 10 punti a separare le due squadre che restano tali in questo momento perché Gallo sbaglia il primo libero e sbaglia anche il secondo per due volte la palla sul ferro lontano poi Pozzoli che non riesce a tenere il pallone in campo si resta in attacco quindi per il basket scauri con proprio Gallo che andrà ad effettuare la rimessa la palla la palla la guzzi che si libera bene sale fino al ferro ad appoggiare i punti numero 73 e 74 del basket scouring questo quarto quarto che si sta avviando alla sua conclusione fallo fallo di Moretti è il terzo per lui per tornare a meno 10 tornato anche in campo il generale tessitore che ha preso questo fallo adesso va in lunetta e sbaglia il primo libero e sbaglia anche il secondo buio pesto in casa shop opportunità di shop Fossuoli Longobardi da tre invece è diventata una vasca da bagno il canestro Longobardi con la tripla del 77 a 62 in più c'è stato un fischio del direttore di gara forse non è stata rimessa in gioco correttamente la palla dopo il canestro di Longobardi quindi possesso per lo scavori che può scavare un fossato tra sé e da Pozzuoli Longobardi tira da casa sua ferro in basso lungo e pescato da Bini Longobardi Bini finta di tiro poi sfida malissimo Laguzzi e praticamente lo investe perdendo anche palla Gallo possesso scambio con Granata Laguzzi per Moretti si fa vedere Granata finta la recensione per liberare lo spazio a tirare a sé Longobardi Moretti va in lunetta con il numero 12 Gioele Moretti uno su due 2.20 sul cronometro del quarto quarto 78 62 uno scauri che ormai ha preso il largo Pozzuoli che attacca con Carricchiello attacco che però non si concretizza con dei punti recupera palla lo scauri che avanza con Gallo vicino a lui Laguzzi servito Granata venetazione di Granata difesa forte anche troppo di Longobardi c'è il fallo mentre esce applauditissimo Laguzzi e rientra con il numero 32 Mili Saievic entra il primo libero di Granata punto numero tre della sua partita e lì rimane a tre e un altro cambio e ancora applaudi esce con il numero 12 Moretti entra con il numero 55 Lorenzo scampone garbage time quando manca un minuto e 40 mancano un minuto e 48 secondi alla fine della partita palla persa dallo scauri dall'altra parte Longobardi che corre si gira lascia conforto salta Memedovic va a prendersi una rimessa conforto pescato in mezzo c'è il fallo di Gallo su conforto ed è quinto fallo per il numero nove che quindi va a sedersi in panchina al suo posto entra Abdelkader Atata l'unico giocatore a raggiungere i cinque falli in questa partita almeno fino a questo momento uno su due per Bini nel frattempo e per Bini per conforto scusate scampone Longobardi si perde il pallone rimessa per Cossuoli quando manca praticamente un minuto alla fine di questa partita il punteggio sedeneato in maniera abbastanza netta sul 79 a 63 direi che possiamo dirlo Basket Scauri che conquista la seconda vittoria consecutiva su due giornate di campionato vince la prima in casa dopo aver vinto la prima in trasferta sul campo del Palermo e si prepara quindi nel migliore dei modi per la terza gara si giocherà ancora qui al Palaborrelli contro l'Alfa Catania Pozzuoli che invece dovrà cancellare quanto di brutto fatto in questa gara ed arrivano gli applausi per Longobardi che lascia il campo in favore di Alessio Policari perché per Pozzuoli la seconda sconfitta in due partite dopo quella subita in casa contro la Tiber Roma adesso andrà contro un'altra romana la Luis tra le mura amiche cercando di invertire la tendenza ultimi secondi di questa partita buoni per Milis Saievich mettere i due punti gli unici due punti della sua gara fino a questo momento mentre c'è un fallo che manda in lunetta il giocatore della Pozzuoli si tratta del solito Carichiello 15 secondi al termine della gara Carichiello che era rimasto a 19 ha adesso la possibilità di acquantare quota 20 ed eccolo qua arriva il libero del ventello per il numero 7 in casacca blu che poi tanto per gradire mette il secondo Beffardo quasi 81 a 65 ma non si ferma lo scauri un saccone gestisce palla 4 secondi 2 secondi 8 sul cronometro e finisce qui si chiudono le ostilità al Palaborrelli scauri scauri batte Pozzuoli 81 a 65 protege che si è allargato forbice che si è allargata nel terzo quarto con la squadra di casa da arrivare sul più 13 prima di chiudere così questa partita seconda vittoria consecutiva per la squadra di coach Fabri seconda sconfitta consecutiva in queste prime due carriere di campionato invece per quella di coach Serpico grande prestazione di Cimane che con le sue triple ha portato avanti in maniera considerevole proprio nel terzo quarto dove abbiamo detto la forbice dalle due squadre si è allargata pregevole come sempre la prestazione di Ricciotti che nei suoi 13 punti ci ha messo nella gestione della gara perfetta la difesa granittica di Laguzzi e tanta 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 altra roba che analizzeremo nel post partita assieme a coach Fabri se ci farà il piacere di essere con noi spero che ci faciate voi il piacere di essere con noi in questo post partita con le interviste e sempre con tutti gli appuntamenti sempre qui su Telegolfo da Tiziana Palombi e tutto con un ringraziamento anche da Davide Guzzardi in cuffia per la cronaca di Scavori Pozzoli è tutto siamo qui con coach Ponte Corvo il vice di coach Fabri appena finita una partita che vi ha visto sostanzialmente in equilibrio per due dei primi tre quarti poi la forbice si è scavata irrimetibilmente nel terzo una partita comunque molto solida da parte dei suoi anche dal punto di vista disciplinare del conto dei falli sì sapevamo che non era facile siamo venuti da buona prestazione di Palermo siamo stati abbiamo avuto un po' il braccino corto come in alcuni casi si può dire non siamo mai riusciti a sbloccarci di dosso Pozzuoli che comunque ha fatto per i primi 30 minuti ha fatto una buona partita i primi 25 minuti ci è mancato qualcosina sicuramente da aggiustare in settimana per quanto riguarda sia la fase offensiva che la fase difensiva sapevamo che i ragazzi giovani potevano un pochettino pagare questo impatto ambientale all'inizio di stagione speriamo adesso di aver superato anche questo secondo step e pensiamo a Catania sono comunque due vittorie su due nelle prime due gare di questo campionato sicuramente il modo migliore di iniziare la stagione c'è stato abbiamo anche letto un po' nel classico programma che abbiamo trovato qui le dichiarazioni anche un po' della dirigenza c'è stato questo mix tra i veterani della squadra ormai lo scaurie da tanto da tante tante stagioni in serie B oggi giocavate contro una matricola e quindi magari anche suoi dell'entusiasmo riuscite a a portarvi qualche qualche difficoltà mentre noi sono bambini che giocano e rischiamo di farci male come sentite la squadra in questo momento quali erano le aspettative che avevate prima che iniziasse la stagione le aspettative sono quelle di arrivare a una salvezza prima possibile per quanto possibile in maniera più serena non sarà facile perché il livello di questo girone è alto 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 siamo consapevoli di questo cercheremo come stiamo facendo sappiamo che ogni partita ha un valore incredibile ad iniziare da quella scorsa di Palermo dove sono stati due punti molto importanti oggi altrettanto dobbiamo ragionare domenica per domenica partita dopo partita non possiamo per nulla guardare oltre il nostro obiettivo è quello e rimane quello la salvezza sappiamo che non è facile in questo momento abbiamo avuto un calendario che ci ha messo di fronte due squadre nostro pari livello su per giù anche Pozzuoli dall'anno promossa comunque ha fatto un buon mercato con giocatori esperti quindi ripeto lavoriamo serenamente settimana in settimana sapendo che ogni partita per noi ha un valore importante per arrivare una salvezza quanto prima possibile ha usato un'espressione poco fa molto interessante è importante il fattore ambientale ed è in dubbio che quando giocate qui c'è un qualcosa in più hanno cantato i tifosi letteralmente per tutta la gara non sa fermarsi mai quanto può essere importante fare di questo palazzetto un fortino in questa stagione per la salvezza soprattutto considerando delle trasferte impegnative anche da un punto di vista fisico come possono essere quella di Palermo o magari penso al giorno di ritorno quando dovete andare a Catania sì sì no questo lo sappiamo in casa abbiamo sempre una mano importante dai tifosi che per quanto possono ci seguono un po' in tutte le trasferte quindi non ci fanno mai mancare il loro calore anche fuori casa in casa nostra sappiamo che possiamo sempre contare su di loro speriamo di coinvolgere sempre più persone fa sempre piacere vedere un palazzetto pieno per chi gioca per tutti è importante sì ripeto per quanto assurdo possa pensare la prima in casa in questi ragazzi che poi sono tutti giovanissimi in cui è sempre un po' un leggero di timore sapevamo questo un po' l'abbiamo negli anni l'abbiamo provato un po' sulla nostra pelle che nelle volte si può inciampare in casa alla prima giornata quindi eravamo attenti e preparati anche anche su questo se tante piccole cose non sono venute in partita le comprendiamo perché sappiamo che c'era questo un po' di di tensione della prima in casa quindi adesso speriamo di aver superato questo piccolo step e di andare avanti con più serenità l'ultima domanda doveroso farla visto considerato il minuto di silenzio che c'è stato prima della gara il ricordo di Gianni con la volpe è stato bello anche magari dedicargli questa vittoria nella prima in casa come state vivendo questo momento e se può darci il suo ricordo di Gianni Gianni veramente significa tanto per la paraganestro scaurese lui veramente è stato tra le persone che hanno sempre fatto parte di questa società dagli anni 70-80 anche negli ultimi anni dove rivestiva un altro ruolo in federazione come rappresentante provinciale era comunque per Scauri un vanto avere un rappresentante così importante purtroppo il destino ha voluto così e mancherà sicuramente a Scauri mancherà un po' tutto l'ambiente sportivo della paraganestro non solo locale ma ripeto anche provinciale e regionale a Grazie a tutti.